ci siamo spostati sempre a moiola e adesso siamo all'opera 5 e vediamo anche qui se è ancora accessibile e se si può ancora visitare queste erano le casermette se non sbaglio l'ingresso dovrebbe essere da queste parti sempre che poi appunto sia ancora visitabile non l'abbiano chiusa non mi ricordo più se no da qua sono solo le casermette deve essere di qua per forza forse e dico forse abbiamo trovato l'ingresso anche qui perché tra rovi e pietra non si capisce niente se si dovrebbe essere qua ok 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 vedete qua ancora tutto nella roccia un po di tutto allora qua non è utile cambiamo ti dico gira subito via si ferma in questa stanza qua chiusa ma non c'è niente di capire occhio solo qui ai buchi ai rocco ai buchi per terra ok ma qua c'erano le latrine vedi se erano già quasi finiti avete che c'è già l'appoggio di come si dice ok adesso qua si tocca ok niente ti rimane per forza questa bella tempo anche Sergio il piccolo Mesner che si arrampica per prendere la qualifica di Indiana Jones il tunnel maledetto questo qui è un altro bello lungo sembra che gli ho passato il fuor lento sembra che gli ho passato il fuor lento allora qua luce bassa perché se non sbaglio di qua che ce n'è facciamo prima ma lì gira ancora qui c'è da sudare te lo dico già io riesco a lì guardi sono più troppo io riesco a lì guardi sono più troppo io riesco a sudare te lo dico io riesco a sudare te lo dico io ci sono qui a sudare te lo dico ah si vede che si comunque non cantiamo vittoria troppo presto ok aspetta che qua non è qui un labirinto raga ok che dici lì si scende sotto lo facciamo dopo ragazzi si tira adesso vedi come siamo arrivati amico mio qui lo facciamo dopo siamo arrivati no vuoi fare prima questa parte qua così ci riposiamo un po' tanto qui se non sbaglio dovrebbe finire subito qui ah no perché poi si sarà anche di qua io che schifo ma questo è grosso c'è qualcosa e mo ti dico ok c'è la canoniera murata e no c'è un'altra un'altra uscita che è stata chiusa ma non è fatto sotto ma non è fatto sotto ma non è fatto sotto ma facciamo prima di qui si si così finiamo ci perdiamo eh e non è fatto ma è una pagina di aumentare si si ma sono cose diverse non arrivano nello stesso punto si 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 aspetta te lo dico dopo tu tu dopo 윈도 mi dici questo vuoi essere qui mi sembra che si e dovremmo anche esserci perchè senti che fa caldo vorrei ripartare utilizzerla si forse finitaeda forse è finito lì una corazza ah si niente ci sono le cannoniere aspetta eh non ci sono ok quindi qua c'è ancora c'era già la corazzatura vedi che bullone ok senti che è caldo che fa qui si 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 abbiamo fatto tutto questo si adesso ok perché scendere è più difficile di quello che penso no no aspetta un attivato io quasi ok ok quindi adesso di qua giusto? si la farei qui va bene si perché noi siamo saliti da qua e adesso ci tocca andare su di qui ah andiamo in base i scardini su scardini mi piace questo è così è così schiucchio perché ai tempi mi ricordo che avevano fatto già già sentato uno solo uno solo uno solo ma è bello grosso eh da su vedi dimmi tu passa a sinistra perché dall'altra parte è aperto basta basta siamo quasi arrivati in cima esatto questo questo sei da di tutto qui è proprio sul muovo e qui qui che buono che buono che buono comunque poi siamo arrivati lì praticamente arrivava all'osservatorio subito qui in cima c'è l'osservatorio no lì non c'è niente su toscala no 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 e niente non possiamo salire perché c'è parecchi qui dietro alla parete parecchie pipistrelle e quindi preferiamo non rischiare niente niente anche sotto dove c'è l'altro non giriamo a sinistra lì a sinistra fai 10 metri di chiuso non c'è niente niente ciò che siamo usciti dentro si infatti vedete che siamo arrivati siamo arrivati e anche qua andiamo solo a passare un attimo veloci e scusate per le riprese ma niente lì ti dicevo tanto non c'è niente da vedere lì fai un paio di metri e c'è un altro ma l'ho po' mai chiuso no mi dispiace per l'osservatorio perché da là c'è una bella vista cioè vedevi tutti no no è troppo rischioso no poi magari c'è da di là o c'è no lì c'erano già 4 o 5 subito lì ma è sempre che fin l'anno l'altra volta questo perché se a salire fa impressione la shantra è peggio si l'ho conosciuto c'è sempre una discesa l'ho già sentita l'ho già sentita pensa che se tutto va bene al fondo della scala dovrò sostituire la batteria della GoPro ragazzi quindi spero che mi arrivi almeno fino al fondo tutto il bunker non abbiamo visto neanche il 10% ok adesso sento che dovremmo scendere da qua perché noi siamo saliti da qua ok sostituzione batterie fatte senti qua che è freddo non so vedere ok mi sembra tutto a posto qua ok qua c'erano tutti i locali logistici qua c'erano tutti i locali logistici cioè tutte le stanzette vedi chiuse così i semplici locali logistici bello lungo qua eh se vediamo tutte le stanzette piccole così senza niente senza senza sono tutti in strada no 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 o sono i cavi della luce come qua sì io mi sembra perfetto così sono tutti in strada ma ti fa non riesco a capire no no ma mi chiamano mamma mamma no poi tutti in fila così non è possibile o sì sono tutti i pepistrelli ma che belli grossi guardala che roba direi che abbiamo finito che dice o lo facciamo di corsa eh andiamo avanti di corsa o lo lasciamo lì spesso è attirada mi sadire adesso la cosa è bella mi sa dire una 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 cosa è bella porca puttana se sono grossi la puttana è bastarda ragazzi Dove andiamo? Di qua? C'è una cannoniera provvieni qua ti faccio vedere una cosa spettacolare, che ci sono in questi bunker, no qui tranquillo vieni c'è una cannoniera presa, si è un uccello, ma l'ho fatta da uno scorpione, scorpione Oh niente, questo è un camerino Questo è un camerino grosso Attenzione il tiro Sì 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 Ok mi sembra pulito Occhio qui Allora voi che andiamo a vedere a verso di qua c'è una cannoniera e poi andiamo giù di qua Sì Perché vedo della luce oggi, quindi occhio perché dove c'è la luce Sì 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 Siamo vicino alla strada, senti Sì Ok siamo sulla, vedete qua con tutta questa luce Sì 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 E poi si chiamano grilli tarpa, ma in realtà non sono grilli tarpa li chiamano grilli talpa ma non sono grilli talpa sono grilli schifosi ma non sono grilli talpa no no ma lo capisco non ti preoccupare vedi che abbiamo già messo per fare una porta chissà perché stanza qui ah no ho capito questo qua è scenduto una piana e qua dobbiamo ancora scendere di qua si noi siamo arrivati da lì ah qua c'erano i lavatori guarda aspetta fai messo l'entrario che sia tutto ok si vieni a vedere qua c'erano tutti i lavatori si allora dovremmo essere quasi al blocco dell'ingresso guarda qui che roba aspetta no niente è solo una stanza vuota eh perché qui secondo me siamo di nuovo a rischio e non poco non so che da che cazzo di parte bisogna andare ah sì questa è solo una stanza vuota eh sì qui saranno le banche pensi a un ottobino qui sì ci sono altre banche vedi ce n'erano all'ingresso e ce n'erano anche qui eh ma perché questo la devo su vedo la luce ah vedi che qualcuno ha rotto qui c'è un altro ingresso sarà qualche cannoniero sì perché qua siamo forse sulla strada anche qui ma al mezzo al boschio ah qua c'era non so se fosse la fotofonica sono sincero no no perché spara in qua no no c'era qualche stanza forse qui non so dove si va avanti se finisce lì vuoi aspettare qui un attimo si si mi passa da sopra c'è una stanza qua sopra ah sì un'altra cannoniera ma finisce qui tutto murato ok quindi ci rimane ancora da fare la parte di là sempre se si riesca a fare e adesso sì poi quando siamo di nuovo di dal corrido dalla tal camerone bisognerò fare molto attenzione ok qui eh ok ok occhio qui l'occhio che adesso sono sbagliato a cambiare ok ok qui stacchiamo un attimo le riprese perché passiamo in un camerone che è tapezzato di pipistrelli quindi dobbiamo fare il meno rumore possibile e meno accessi il camerone è passato comunque con lo so di così non l'ho mai visti eh madosca che che bestia di roba ok ok ti ho già detto che ci sono delle scale no che mi eravamo premontate non so più poche scale ok sono scendere ok non mi ricordo se ce n'era forse uno solo al fondo si ma senti questa scala qua al fondo quella c'era la stranza forse ce n'era lì non mi ricordo se ce n'era si si è vero si questi scaldi sono ancora morti sai stasera i polpacci come ti vanno bene tira 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 ok aspetta non mi ricordo se è fine no ok qua siamo ancora si perché c'è ancora qui ah no noi siamo arrivati da qui da destra eh ma allora cosa si dobbiamo vedere questo che siamo subito saliti di qui da qua non siamo andati si perché l'albero dietro che siamo arrivati esatto si si questo non è ancora qui no no perché noi siamo andati subito di là abbiamo fatto i due giri di là qui altri locali piccoli locali teologistici penso qui altri locali piccoli locali teologistici penso sono strani insomma allora aspetta anche qua tanta paura allora qui ci andiamo dopo e andiamo di qua se d'accordo poi si forse ah si c'è della luce forse c'è qualche cannoniera allora se c'è luce c'è speranza ma c'è anche le pistrelli si no dico in genere si qua ci sono le varie cannoniere qua mi sembra tutto pulito in ordine si intanto non è finito ah vedi si qua c'è la cannoniera vedi come non è stata proprio finita si si infatti vedi è un bello cannone vedi che ci sono gli scalini e poi c'è nulla questa c'era l'ingresso facile anche qui ah si ah si non ha proprio finito niente c'è un bel salto non è arrivare giù pensa quanto cemento mettevano per riempire e qui è l'ingresso che vedi per il murato quello che dicevo siamo al fondo proprio sulla strada ah si si quindi qui penso che si vada solo delle cannoniere si ok si si vede ancora la montatura della piastra niente di che e da qua penso sia la stessa cosa si però il murato ah si tutto chiuso c'è l'interessante anche qui giusto per cruzare se si è tutto chiuso se si è tutto chiuso e vedi 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 ci rimane di qua giusto? vedi 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 noi siamo arrivati da qua quante bestie schifo vedi 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 vi dovrò vedi vedi le lala che è chiusa non c'è mica più niente vedi 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 il Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.